E' passata in vantaggio la Virtus Castelfrentano al primo minuto del secondo tempo, a rete Ito, il nostro Ito a rete, 1 a 0, a rete numero 5, Ito, Virtus Castelfrentano 1, Sporting, Altino 0. Ecco guardate, i nostri tifosi fumogeni giallorossi accesi, 1 a 0 a nostro favore, stanno sbandierando le nostre bandiere giallorosse al vento, i nostri ragazzi, la maggior parte sono ragazzi della scuola calcio settore giovanile, gli allievi giovanissimi e anche delle categorie sordienti, sono il gruppo dei nostri tifosi più accesi, infatti ci hanno i fumogeni a portata di mano, 1 a 0 a nostro favore.